Buonasera a tutti, è venerdì 12 novembre, sono le 19.14 e ci siamo messi in tasca più di 1000 dollari grazie all'ultima operazione descritta abbastanza semplicemente nell'ultimo video in inglese. Direi che per un servizio completamente gratuito di analisi e di didattica soprattutto può essere effettivamente interessante come cosa. Che cosa è successo? Prima di tutto siamo arrivati oltre la durata minima necessaria a chiudere un T settimanale e abbiamo due condizioni, quella di chiusura non solo del settimanale, ovvero un T-3 ribassista, ovvero una candela rossa nella realtà dei fatti, ma abbiamo anche già la condizione per la chiusura del primo T più 1, ovvero ciclo bisettimanale. Prima settimana che ha chiuso qua, seconda settimana che è arrivata fino a qua, siamo arrivati a 16 barre, che è peraltro una durata media. Ci sono divergenze particolari? Ci ho dato un'occhiata su questo grafico, no, non vedo nulla di particolare. Questo per quanto riguarda l'indice, ovvero abbiamo fatto un primo ciclo trimestrale, un secondo ciclo trimestrale, il primo è durato a 63 giorni, questo qua, poi abbiamo avuto un raccordo, e poi il secondo, quanto sta durando in questo momento? Qui ha chiuso il primo T più 2, qui è iniziato il secondo, siamo arrivati a 45 barre contro le 63 che è durato il precedente, quindi ci stiamo avvicinando a una durata già media, durata minima a 48 giorni. introduco una cosa estremamente importante, d'accordo? Mi ero dimenticato di farlo nei precedenti video, perché bisogna guardare anche i cicli superiori. Ne parleremo nell'analisi del weekend, quella weekly più lunga, vi dico soltanto iniziate a guardare questo numero, ok? 2, 1, 0, 210. Questo è tutto. Per quanto riguarda l'analisi, avevo segnalato proprio questo pomeriggio che se fossimo andati qui sotto, e ci eravamo appena andati, da qui poteva essere partito eventualmente il nostro stesso T-3, e poteva esserci già vincolato a ribasso. Per cui, dato che non è arrivato manco lontanamente al minimo di candele che può durare, ovvero a 24, è arrivato con la violazione all'undicesima, ho segnalato che si poteva continuare a scendere perlomeno fino ad arrivare a 24. In questo caso qui, alla ventesima, ha rimbalzato, vediamo se sarà un rimbalzo del gatto morto oppure no. Il target era questo qua, 62.866 dollari. Lo abbiamo raggiunto? Direi proprio di sì. Chi non si è fidato della ripartenza, comunque si è portato a casa più di 1000 dollari, perché essendo andati in violazione, poi andati un pochino sopra, può aver acquistato attorno a 64.206 dollari bitcoin, e se l'ha shortato come d'attese, se anche l'ha venduto male, l'ha venduto a 62.713. I calcoli fateli voi. Analisi gratuita. C'è ancora qualcuno nei commenti che si lamenta perché non sono simpatico. Va bene, non c'è nessun problema. Fa ridere mai così. Per il resto, raggiungiamo, parliamo, volevo dire, di inverso. Qui abbiamo fatto il primo t-3, inverso, 25 bar, una oltre il normale, la durata minima normale. Qui abbiamo fatto il secondo t-3, 39 bar sul massimo 44. E qui stiamo facendo il terzo che, attenzione, potrebbe vincolarsi a rialzo, se viene superato, il massimo a 64.165, e quindi, anche in caso di altra ondina, poi tornerebbe a salire sopra questo massimo. Però, 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 attenzione. Prima di tutto qua c'è un punto di domanda. Seconda cosa, non mi sembra ci sia una squadratura differente rispetto a quella che ho proposto, ovvero, qui 22 bar sono troppo poche, qui 37 sono buone, partenza del sesto t-3 con tutte e due le condizioni sufficienti per farlo iniziare, anzi più che sufficienti, e qui ci siamo fermati a 20 bar, però. Su minimo 24. Non è che, ve lo faccio vedere meglio, il nostro sesto t-3 sta facendo così. Basta anche tornare a pari del minimo assoluto fatto a 62.255 dollari, perché nella realtà dei fatti, come vi dicevo, con la ciclica evoluta, si ragiona anche in termini di tempo. Oggi si appiccicherà un raccordo, oppure, attenzione, perché se non supereremo questo massimo, come detto, di 64.165 che vincolerebbero a rialzo appunto il nostro terzo t-3 inverso, e qui abbiamo già un sesto t-3 che ha pagato molto bene come operazione. E però non è finito il tempo. 20 candele non bastano. Minimo 24, in media 32, al massimo 44. Quindi tempo ce n'è. Questo swing, a 64.165, ci fa da swing di controllo. Quindi, sarà bene andare a controllare bene, a mettere magari anche soltanto un campanellino qui, in modo che, se non si suona, se questo, se il campanellino non suona, si potrebbe valutare eventualmente ancora uno short, per ritornare qui sotto. Se invece suona, si chiude l'operazione in lievissima perdita, perché comprare qua e mettere uno stop loss poco sopra questo massimo, ci va veramente molto poco come cosa. Quindi è una piccola operazione da trader, effettivamente, non da odler, che può pagare molto molto bene. Qui, altra considerazione però. Questo secondo t-3 inverso. Potrebbe avere chiuso qua. Difficile. Potrebbe avere chiuso... Qua. 23 barre, non mi piacciono. Difficile. Sì, potrebbe essere. Quindi, questo è uno swing importante da tenere d'occhio, però potrebbe non essere quello che ci dice che se superato, poi non si torni giù, ma si continua a salire su. Perché se il terzo t-inverso fosse partito qua, non mi piace molto, ma comunque spinta c'è stata, un superamento di questo swing e non diventerebbe nulla. Per cui, comunque, io mi metterò un bel allarme qui e valuterò da farsi, perché se no si andrà sopra e si inizierà a perdere in termini di volume e in termini di candele verdi iniziare ad avere candele rosse, un'idea me la faccio, sicuramente. Questo direi che per ora è tutto, anche perché siamo arrivati al fine settimana, come vedete, finito con il giacca e cravatta, a meno che non abbia ancora appuntamenti, poi sabato. E direi che tutto il circolo virtuoso, di nuovo, paga e paga molto, molto bene. A questo punto, la solita riflessione. Cosa farete? Come investirete i soldi guadagnati con questa analisi gratuita? Li investirete in cose materiali, in bitcoin, comprando altri bitcoin, continuando ad accumularli, o valuterete di investire in formazione? L'investimento ha più alto tasso di reddito perché rimane sempre con voi e non potete perderla. Ah, non è la sua scelta. Io ho iniziato sui libri, poi mi sono reso conto che aveva senso anche valutare altre strade. Ricordatevi peraltro che qui siamo appena andati in death cross, d'accordo? Ricordatevi che siamo finiti sotto le medie mobili tutte che siamo finiti sotto l'acumo, tutta questa roba qua ci farà da resistenza. Per il resto vi ringrazio come al solito per il vostro tempo, vi ringrazio per i commenti e per gli attestati di stima. Ogni tanto vedrete anche un'analisi in inglese, eventualmente fatemi tranquillamente domande anche in italiano nei commenti che il weekend abbia inizio. Arrivederci!